Benvenuti all'oroscopo di oggi. Siete pronti per esplorare le stelle e scoprire cosa il destino è in serbo per voi? Allora accomodatevi, rilassatevi e lasciate che le previsioni astrali illuminino il vostro cammino. Siamo entusiasti di condividere con voi le prospettive celesti che plasmeranno la vostra giornata. Segno Ariete. Ariete si avvicina a ogni lavoro con spirito positivo ed entusiasmo. Il desiderio di successo è la loro forte spinta, e sono sempre pronti a sperimentare nuove idee, senza esitare di fronte alle critiche degli altri. Ariete ha una giornata lavorativa efficiente. Tuttavia, i tuoi amici stanno affrontando problemi sentimentali, quindi hai assunto il ruolo di consigliare di oggi. Sei bravo a individuare gli errori degli altri, ma a volte non riesci a comprendere i problemi che incontri. Il tuo sentimento è come un'onda potente, incapace di resistere alla passione o focalizzato solo su quella persona. Tuttavia, Ariete dimentica che inseguire qualcuno non è amore, l'amore è quando due persone guardano nella stessa direzione, tenendosi per mano lungo lo stesso percorso. Tuttavia, chi è del segno Ariete deve fare attenzione e non esprimere troppo precipitosamente i propri sentimenti verso gli altri in questo giovedì. Invece, dovrebbero prima esplorare e capire le emozioni dell'altra persona. Sei pronto ad affrontare sfide in un nuovo campo, anche se non c'è alcun beneficio immediato. Anche se potresti non ottenere risultati immediati, da queste esperienze trarrai insegnamenti preziosi. Segno Toro. Il Toro si pone seriamente obiettivi, specialmente con Marte che forma un angolo di 30 gradi con Nettuno. Utilizzando la loro ricca esperienza, risolvono ogni problema con facilità e sono anche una fonte di incoraggiamento per coloro che li circondano. Oggi il Toro ha una forza mentale ammirevole e una mente sorprendentemente acuta, quindi prendi decisioni molto precise. Puoi assumerti piena responsabilità per le tue azioni e guidare gli altri quando necessario. Il Toro non solo lavora seriamente ma mette anche le emozioni del partner al primo posto in ogni situazione. Sono attenti e dedicati nelle relazioni, assicurandosi che chi li circonda si senta amato e supportato. La loro capacità di guadagnare denaro in modo eccellente, unita alla prudenza nelle spese, genera un portafoglio sempre pieno. Questo non solo li aiuta a essere finanziariamente indipendenti ma suscita anche ammirazione da parte degli altri. Il Toro condivide senza esitazioni la propria conoscenza e successo per aiutare gli altri, conferendo loro un'aura di eleganza e rispetto. Segno gemelli. I gemelli mostrano particolare cautela con la luna formante un angolo di 120 gradi con Saturno. Questo atteggiamento li rende eccessivamente cauti e riluttanti ad affrontare nuove sfide. I gemelli potrebbero incontrare alcuni problemi sul lavoro. Devi prestare molta attenzione ai tuoi piani, alla modalità di lavoro e alla scelta dei partner. La tua soggettività potrebbe portare a conseguenze negative e far perdere fiducia ai superiori. I single potrebbero trovare maggior ispirazione per appuntamenti e essere pronti a iniziare e mantenere una nuova relazione a lungo termine. La situazione finanziaria di questo segno zodiacale è abbastanza stabile e potrebbe subire qualche cambiamento positivo in futuro. Se continui a esitare e indugiare, la persona che ami potrebbe andarsene e cercare altrove. È tempo di mostrarti forte e coraggioso, senza esitare a uscire dalla tua zona di comfort. Incoraggia te stesso e avanzare con decisione verso il futuro. Il modo in cui gestisci le tue finanze è considerato positivo, indipendentemente dal reddito, mantieni una situazione finanziaria stabile senza difficoltà. Segno cancro. Il cancro solitamente mostra emozioni forti nel comportamento. Spesso lasciano che i sentimenti guidino ogni loro decisione e amano espandere le relazioni, imparando a collaborare con gli altri. Il cancro avrà l'opportunità di affinare ulteriormente e sviluppare le abilità che già possiede. Avrai la possibilità di dimostrare le tue capacità e fare un'impressione su coloro che ti circondano. Non permettere alla vita difficile di privarti del sorriso. Non lasciare che le cose che ti preoccupano ti impediscano di sorridere. Ogni momento, ogni vita offre un nuovo inizio e una conclusione. È importante capire che gestire con troppa restrizione il partner nelle relazioni non è la scelta migliore. Il cancro deve creare uno spazio di libertà per il proprio partner, in modo che possano esprimersi liberamente senza essere troppo vincolati. Prendere decisioni in materia di investimenti o affari richiede cautela e riflessione da parte del cancro. Non prendere decisioni affrettate in questo giovedì senza considerare attentamente. devono mantenere la calma e valutare tutti i fattori coinvolti, anziché fare affidamento solo sull'istinto. Segno leone. Il leone mostra uno spirito combattivo oggi. Non vuoi apparire debole davanti a nessuno, ma ricorda che un atteggiamento testardo può portare a errori evitabili. Ci saranno momenti in cui il leone dovrà fare qualcosa contro voglia, ma per una questione di integrità, sarà necessario impegnarsi. A volte potresti persino fare qualcosa che va contro i tuoi principi, criticato dagli altri, ma farai del tuo meglio per la controparte. La fiducia è positiva, specialmente nella comunicazione, lascia che gli altri vedano la tua sincerità e le tue capacità. Tuttavia, evita di essere troppo arrogante, conosci te stesso e gli altri per evitare l'isolamento, non diventare uno spinoso agli occhi degli altri. Se le tue relazioni si basano su una competizione costante, è facile sentirsi esausti. Mantieni le tue relazioni non solo una gara di superiorità, altrimenti perderai il valore delle tue connessioni. Il rivale può essere un incentivo per mantenere alto il morale. Prendere decisioni giuste porterà a successo e guadagni considerevoli. Segno vergine. La vergine solitamente mantiene pensieri rigidi e non desidera modificare le proprie prospettive a lungo termine. Quando affrontano compiti difficili, dovrebbero rivalutare e valutare per trovare soluzioni. Se mantengono ferma la loro opinione iniziale, potrebbero trovarsi in situazioni difficili. La vergine è precisa, seria e cauta in ogni cosa, talvolta incline alla conservazione per eccessiva prudenza. Hai un carattere eccezionale e avrai opportunità di avanzamento nella tua carriera. Oggi è un giorno fortunato e tranquillo per la vergine. Le coppie potrebbero viaggiare insieme e trascorrere momenti felici. Sei immerso nell'amore e per te non c'è nulla di più bello e prezioso del sorriso felice della persona amata. La vergine mostra cautela nelle interazioni sociali, il che potrebbe farti sentire isolato. Per cambiare questa situazione, incoraggia te stesso ad aprirti di più e cerca un coinvolgimento positivo con gli altri. Gli sforzi e l'impegno della vergine saranno ricompensati con il denaro che riceveranno, un incentivo per continuare a crescere e progredire in futuro. Segno bilancia. La bilancia mostra un atteggiamento amichevole e aperto verso gli altri. Costruisci relazioni sociali in modo efficace e completi con successo i compiti assegnati. Con la tua capacità analitica, riesci a persuadere gli altri facilmente. Se vuoi ottenere risultati e riconoscimenti positivi, devi concentrarti maggiormente. Dimostra le tue capacità con azioni, le tue esperienze a lungo termine ti aiuteranno a soddisfare le richieste superiori. Questo segno sembra affrontare un giorno carico di preoccupazioni. Potresti avere problemi familiari e hai bisogno di qualcuno che ascolti le tue preoccupazioni. Qualcuno in cui puoi avere totale fiducia per confidarti. Nonostante il legame speciale con il partner, capisci che non dovresti dipendere troppo da loro. Sottolinei l'importanza di prendere decisioni indipendenti in alcune situazioni. Sul fronte finanziario, non ci sono cambiamenti significativi. Per valutare le prestazioni aziendali, è meglio aspettare per avere una visione più dettagliata. Segno Scorpione Lo Scorpione ha attraversato un cambiamento significativo nelle prospettive e nei comportamenti. Non rimani più ancorato a mentalità conservatrici, ora mostri un grande fascino e vitalità, soprattutto nelle interazioni sociali. Oggi è un giorno fortunato per lo Scorpione. Tuttavia, non essere troppo sicuro perché non puoi prevedere tutti i rischi. Mantieni la massima cautela in tutto ciò che fai per evitare problemi inaspettati. La situazione finanziaria dello Scorpione è abbastanza positiva. Potresti comprarti qualcosa che desideri. E non dimenticare di prendere qualcosa anche per i tuoi cari, ne saranno molto felici. Lo Scorpione, soprattutto nel campo degli affari, potrebbe studiare e implementare nuovi passi per ottimizzare le finanze. La tua abilità imprenditoriale e la tua leadership saranno più evidenti, aiutandoti a attrarre successo e prosperità più rapidamente. Il cambiamento positivo nelle prospettive e nei comportamenti dello Scorpione non solo attira gli altri ma è anche la chiave per il successo e la stabilità nelle relazioni e nella carriera. Segno Sagittario. Il Sagittario sta determinando a mostrare se stesso quando la Luna è a 150 gradi con Saturno. Desiderando ottenere l'ammirazione di tutti, stai spingendo te stesso per eccellere nel compito assegnato. Non solo stai svolgendo bene il lavoro che ti è stato affidato, ma stai anche scoprendo nuovi modi che sorprendono e soddisfano gli altri. Il Sagittario non ha la stessa vita familiare di altre persone, e questo ha un impatto significativo sulla tua mente. Perciò questo segno zodiacale deve essere forte per superare le sfide attuali perché il successo non arriva mai facilmente. Il rischio è una parte inevitabile del successo, e la paura più grande è quella della perdita, che è costante. Piuttosto che evitare, è meglio affrontare e cercare soluzioni. Tuttavia, sembra che tu non sia ancora pronto per aprirti a una nuova relazione a causa delle ferite del passato che persistono. Anche se hai successo sul lavoro, le emozioni personali possono essere limitate e difficili da estendere. Se continui a eccellere nei compiti assegnati, riceverai una ricompensa meritata. Questa somma potrebbe darti un certo comfort per un breve periodo. Segno capricorno. Il capricorno è abile nel cogliere rapidamente le opportunità, aiutandoti a ottenere successi. La tua capacità di riconoscere i tuoi punti di forza attrae l'ammirazione di chi ti circonda, ma cerca di evitare l'arroganza durante questo processo. Il capricorno è propenso al successo grazie alle tue qualità positive. Sei paziente e adempia i tuoi doveri, sia nel campo sentimentale che lavorativo. Ti impegni al massimo per mantenere stabile la tua carriera e la tua relazione. Il successo o il fallimento spesso non sono importanti perché, una volta intrapreso il cammino, ogni passo ti fa sentire che tutto diventa migliore di quanto immaginato. Puoi avere punti di vista negativi riguardo alle emozioni, ma evita di preoccuparti troppo se qualcuno è sincero con te o meno. Mantieni la fiducia e non lasciare che pensieri negativi prendano il sopravvento. La tua natura cauta e la riflessione ti aiutano a prendere decisioni solide, proteggendoti dalle insidie che persone malintenzionate potrebbero porre davanti a te. Segno acquario. L'acquario può finire in relazioni complesse, rendendoti difficile identificare le persone in cui puoi davvero fidarti. È importante regolare il tuo comportamento per evitare malintesi e incomprensioni con gli altri. Sei intelligente e divertente, ma sei anche incline all'irritabilità, alla rabbia e alla perdita di controllo. Oggi, se non riesci a gestire le tue emozioni in situazioni problematiche con la famiglia o il partner, potresti essere la causa principale di tensioni. L'amore dell'acquario è pacato e equo. Hai qualcuno che è sempre al tuo fianco nei momenti difficili, ti sostiene, incoraggia e difende quando sei ferito. Durante questo processo, mantieni la fiducia nel tuo partner e non ascoltare troppo le voci esterne. Dedica del tempo per ascoltare e comprendere le opinioni e i sentimenti dell'altra persona prima di giudicare o trarre conclusioni. Per quanto riguarda le finanze, sembra che tu sottovaluti le tue capacità di guadagno. Evita di esitare troppo, perché potresti perdere opportunità importanti. Segno pesci. Il pesci sta attraversando un periodo di tensione. Preoccupandoti di fare errori, eviti qualsiasi decisione. Se hai dubbi, cerca consiglio da coloro che ti circondano, perché saranno felici di aiutarti. Il pesci sta diventando incline trascurato rispetto a certi eventi in questo giorno. Potresti pensare che siano solo piccoli problemi da non considerare, ma a volte, trascurare i dettagli può essere molto importante. La scara emotiva di questo segno mostra segni di cambiamento positivo, e sembra che tu stia cercando di migliorare la relazione. Dedichi più attenzione e premura alla persona amata. Forse stai cercando di ravvivare le emozioni nella tua relazione. Tuttavia, non sei ancora pronto a prendere una decisione chiara sul tuo sentimento verso qualcuno. Affronti incertezze riguardo al tuo grado di affetto verso la controparte. Per coloro che si occupano di investimenti e affari, è necessario prendere decisioni risolute. Troppa esitazione ti metterà in svantaggio rispetto ai tuoi concorrenti. Sii deciso nel perseguire i tuoi obiettivi.